benvenuti a un nuovo appuntamento con l'agenda del tempo libero al circolo piqui che divigevano giovedì 8 marzo festa della donna rock con i fucking jam venerdì 9 cabaret imbruttito con germano lanzoni milanese imbruttito e flavio pirini sabato 10 live music con i paritos domenica 11 marzo presentazione del libro milano criminale con musica e cabaret presso la cavallerizza del castello di vigevano sabato 10 e domenica 11 marzo si terrà l'ottava edizione di essere donna oggi a cura del coordinamento volontariato vigevano al teatro carbonetti di broni sabato 10 marzo va in scena madama butterfly di giacomo puccini sabato 10 marzo a pavia al teatro fraschini andrà in scena lo spettacolo orni di antonio ornano sabato 10 marzo a castello dal verme di zavattarello i misteri del castello un viaggio nel tempo sulle tracce di pietro dal verme sabato 10 marzo presso il teatro besostri si terrà il concerto dei la strega tra noi domenica 11 marzo al teatro sociale di stradella per il ciclo pomerigget aperitivo in musica con il new project quartet domenica 11 marzo sapori sui sentieri di san ponzo passeggiata con merenda tra natura leggende e prodotti tipici del monte vallassa domenica 11 marzo prosegue la 35esima primavera dei vini di rovescala con la seconda domenica insegna del vino banco d'assaggio con più di 100 etichette e stand gastronomico nel pomeriggio la banda alpina e conferenza sui longobardi in oltre po domenica 11 marzo a pavia home 2018 piera mercato della casa e degli accessori di pavia domenica 11 marzo a breme 41esima mostra dell'artigianato commercio agricoltura la mostra dei 100 espositori fino al 3 giugno le scuderie del castello visconteo di pavia ospiteranno un'ampia retrospettiva dedicata al lavoro di steve mccurry uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea è tutto per le vostre segnalazioni chiamate il numero 0381 09 25 25 oppure mandate una mail a pubblicità chiocciolatelepavia.tv